Quasi di prima a servire Navas, può ripartire la Siracusa con Palermo. Palermo non trova una via di passaggio per Rizzo, adesso servito. Ancora Rizzo, contropiede del Siracusa, prova da lontanissimo Rizzo! Rizzo! Ma cosa ha fatto Rizzo? Ma cosa ha fatto Rizzo? Da casa sua! Ha segnato un gol pazzesco Rizzo! Cambia il risultato, Siracusa 2, Regina 1, ma col mancino Rizzo. Ha lasciato a bocca aperta tutto lo stadio. Che gol di Rizzo! Da casa sua ha alzato lo sguardo da metà campo. Ha visto il portiere fuori senza parole davvero. Un gol del genere non si può descrivere se non con le immagini. Gol stupendo da parte di Nicola Cesar Rizzo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!